Sul palco manca qualcosa, lo sappiamo, manca qualcosa, il buffet, ho fatto prima il buffet, non l'ho mangiato prima, no manca una donna, una figura femminile, giusto perché non... Io la posso presentare io? Aspetta, vieni qua, questo programma si chiama Tutti per Uno, ed è giusto farlo tutti insieme, però lo presento io. E tu, Arena di Verona, un caloroso applauso per Federica Panicucci. Buonasera, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti! Ragazzi, grazie, grazie per questa presentazione meravigliosa. Vestito meraviglioso. Grazie, anche voi. Sono molto felice di ritrovarvi, devo dire, dopo la settimana scorsa mi sono divertita moltissimo, Sono stata benissimo. Posso salutare il pubblico meraviglioso qui in Arena? Buonasera! Questo calore che arriva nonostante due goccettine. Ma cosa vuoi che sia? Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Due goccettine sono per noi che stiamo qua sotto, però vabbè. Io prolungherei l'applauso per il trio italiano più famoso al mondo, il volo! Ragazzi, essere su questo palcoscenico per me è un privilegio. Sono davvero molto molto felice, lo sapete, l'ho già detto anche settimana scorsa. Poi vedervi lavorare, vedervi cantare insieme. Avete un'alchimia, ma come vi dividete i compiti poi dietro le quinte? Come fate? Beh, siamo ormai veramente come una famiglia. Ognuno ha la sua personalità. Piero è il più serio. Piero, sì, diciamo, è... Sono il calchiniere del gruppo. Esatto, vedi? Ma vedi stasera che si è messo anche... Che eleganza! Che eleganza! E' elegantissimo, devo dire, eh! Siccome, come dici tu, studiamo tanto, ha appena finito di studiare botanica, ha dato l'esame. Invece Ignazio com'è? Com'è Ignazio? Ignazio, Ignazio... Sentiamo! Allora, ehm... Sono sei lì! Beh, dai, dai! No, allora, lui ama il mondo della tecnologia. Qualsiasi cosa, nell'ambito della musica, che riguarda le registrazioni, sistemare qualcosa al computer, affidiamole Ignazio. E lui, è il tecnico, è il tecnico. E lui suona tantissimi strumenti. Ma allora a questo punto, ragazzi, cosa facciamo? Lo lasciamo da solo. Diamo gli uno strumento. Diamo una chitarra, cosa dite? Diamo una chitarra a Ignazio! Lo lasciamo su questo palco? Sì, io ci sto volentieri, sì. Allora, vediamo se arriva la chitarra e noi intanto ci vediamo dopo. Esatto. Gianluca, vieni con me, no? Tu vai con Piero. Purtroppo no, mi tocca andare con Piero. A dopo, Ignazio! A dopo, a dopo, a dopo.